A Mauri Ribeiro si è appena conclusa la partita contro la Germania, valida per l'accesso ai segnali dell'Europeo ma soprattutto per l'accesso alle parenti di Tokyo. L'Italia ha vinto 3-0 significa che andremo a Tokyo, significa che domani giocheremo contro la Russia per il primo posto. Un tuo commento su questa bellissima partita? Il nostro ragazzo oggi ha fatto vedere per cosa abbiamo venuto qua a fare, che era semplicemente arrivare alla finale, il campionato ancora non è concluso, lo sappiamo, c'è la finale domani, però abbiamo fatto il nostro lavoro, l'abbiamo fatto molto bene perché abbiamo provato giocando al primo secondo sette bellissima, bellissimamente senza sbagliare, poi al terzo sette quando abbiamo bisogno, abbiamo stato sotto il punteggio, abbiamo riuscito a cambiare questa situazione e così si trova ancora che siamo sulla strada giusta e avremo adesso un grande lavoro davanti per la crescita ancora del nostro squadro. Grazie.